buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi giovedì 30 novembre 2023 anche novembre se ne va se ne va già la percezione dell'atmosfera natalizia e anche fano tv ha cominciato ad adobarsi con tutti gli elementi che riscaldano un po il cuore perché poi l'atmosfera natalizia è un'atmosfera di pace e di serenità così come ci auguriamo tutti e allora oggi diamo un'occhiata ai giornali con il resto del carlino che purtroppo non c'è oggi per un problema tecnico e vedremo quindi solo il corriere adriatico e quindi procediamo con l'almanacco del giorno e vediamo che si festeggia eccolo bella questa grafica e sant'andrea sant'andrea apostolo tanti sono i giovani che si chiamano soprattutto i giovani che si chiamano andrea quindi un augurio per il loro nomastico sant'andrea uno dei dodici uno dei dodici pescatore anche gli di bezzaida seguì gesù come suo fratello pietro quindi era pescatore insieme a lui e dopo la pentecoste andò ad annunciare ai popoli il messia girò parecchio girò in frigia in epiro in traccia in grecia e a patrasso e a patrasso fu imprigionato fu imprigionato e condannato a essere crocifisso morì nella croce a x quella tipica di sant'andrea che da allora appunto assunse il nome dell'apostolo il santo sarà festeggiato in modo particolare a marotta dall'associazione malarupta con una messa nella chiesa di san giovanni alle 18 di sabato e poi con una cena nella sala intestata a padre leone ricci dunque una festa particolare perché poi a marotta si sente in modo veramente caldo diciamo così la protezione di questo santo vediamo le previsioni del tempo una nuvolosità frequente associata a precipitazioni sparse in genere deboli e più probabili sull'appennino questo un po il tempo in sintesi il tempo di oggi un clima è ventoso però mite la temperatura è di 16 gradi la massima di 8 la minima è leggermente salita rispetto ai giorni scorsi sulle coste i venti spireranno da sud e sud ovest nell'interno da sud ovest il mare è mosso diciamo così non molto mosso però insomma è particolarmente agitato allora apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo uno dei temi che ci sono discussi nell'ultima seduta del consiglio comunale per il ginepraio di norme 5g consulenza da 100 mila euro di che cosa si tratta si tratta di antenne di telefonia mobile antenne che stanno prolificando in modo preoccupante per i residenti in modo particolare delle zone periferiche nel territorio perché stanno dilagando perché le aziende hanno ricevuto i fondi del PNRR fondi che cercano di coprire le zone cosiddette morte per dare una efficienza ai collegamenti su tutto il territorio nazionale e questo corre il rischio di provocare problemi problemi dal punto di vista ambientale paesaggistico e temono i residenti di queste zone anche danni alla salute ecco perché c'è un clima di proteste ma un clima di proteste che viene sopito dalle continue norme che cambiano un po' il regolamento Fano per esempio si è dotato di un piano delle antenne che però è rimasto indietro rispetto alle ricorrenti innovazioni normative che si sono succedute pensate in un anno e mezzo sono state sette in questi ultimi tempi e questo ha dato un po' di difficoltà ha creato un po' di difficoltà ai tecnici del comune tanto che lo stesso assessorato all'ambiente si è deciso di rivolgersi ad una società specializzata si tratta di una società a cui si è rivolto anche il comune di Pesaro e beh il conto è di 100 mila euro insomma non sono noccioline e questa cifra è stata considerata un po' spropositata dalla Lega nel dibattito del Consiglio Comunale Comunque questo servirà per aggiornare il piano delle antenne in modo che poi sia adeguato alla normativa corrente e le ditte poi siano costrette ad osservarlo perché in questo momento fanno un po' Repubblica per conto loro e se poi c'è anche un ricorso al TAR loro vincono perché appunto il loro interesse è un interesse che viene equiparato a un interesse pubblico così come ha decretato la legge Gasparri e quindi insomma i ricorsi al TAR si perdono e proprio nell'ultima seduta del Consiglio Comunale la Civi Cassise ha dovuto approvare una delibera di un debito fuori bilancio per ripagare una sentenza che è stata emessa dal TAR a favore delle ditte della telefonia mobile Lasciamo questo argomento e ci occupiamo di altro Salta Martini l'assessore alla Sanità della Regione Marche verrà in Consiglio Comunale finalmente qualcuno dice è da tempo infatti che la Giunta Fanese richiede alla Regione di intervenire in un Consiglio monografico per parlare di sanità ci sono molti punti da sciogliere per quanto riguarda la Sanità Fanese prima di tutto il destino delle Santa Croce e poi il destino di quei posti letto di ortopodia che erano stati programmati per la clinica di Chiaruccia clinica che non si farà più e ora corrono il rischio di essere così un po' tolti a favore di una clinica che verrà realizzata a Pesaro a Villa Fastigi e poi ci sono altri problemi da risolvere recuperare la storica eccellenza ortopedica al tempo del primario Cormio che era proprio un luminare in questo campo è uno degli obiettivi perseguiti da Fano della Sanità Fanese si è discusso ieri in Consiglio regionale per una interrogazione della capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri però insomma le risposte non sono state considerate esaurienti le domande poste dalle interrogazioni rileva Ruggeri erano semplici e puntuali e chiare in particolare su questi 50 posti letto ma solo reticenza è stata la risposta e risposte evasive da parte dell'assessore Salta Martini questo è stato il commento della stessa Marta Ruggeri si interviene con dei lavori particolari ingenti nel liceo scientifico Torelli si interviene con un investimento che deriva dal PNRR di 2.261.000 euro quindi è una cifra particolarmente importante che cosa si fa al Torelli? si adegua all'istituto, si adegua allo stabile alle normative antisisma partano i lavori e sul modo particolare alla palestra infatti non ci saranno problemi per l'attività didattica degli studenti si interverrà nella palestra oggi la palestra è inagibile i studenti fanno riferimento al circolo della tennis poi anche altre associazioni sportive hanno dovuto trovare un'altra sistemazione e quindi si interverrà sulla palestra per far sì che si risponda alla normativa corrente sarà bonificata dall'amianto la palestra anche a uso cittadino garantite le lezioni c'è ovviamente un commento soddisfatto sia da parte del presidente della provincia da Giuseppe Paolini e dal sindaco della città di Fano Massimo Seri in Duomo l'ultimo saluto a Massimo Cecconi medico di famiglia un medico che è scomparso all'età di 63 anni quindi piuttosto giovane per un problema improvviso una emorragia cerebrale che si è stesa a tal punto da essere inoperabile purtroppo tutto si è concluso in poche ore e Massimo Cecconi è deceduto è stato veramente un colpo per tanti assistiti ma per tante persone che lo conoscevano e apprezzavano la sua professionalità la sua competenza ma anche la sua umanità in quanto il rapporto che aveva con gli altri trascendeva la sua professione medica e diventava un rapporto veramente umano amichevole e quindi un grande lutto e poi si svolgeranno domani alle 9.30 nella chiesa di San Cristoforo il funerale di Fausto Mazzanti di 72 anni ex calciatore dell'Alma Juventus Fano e della Vispesaro negli anni 70 venuto a mancare nella struttura di Piobbico dove era ricoverato per il morbo di Alzheimer e quindi continuano purtroppo i lutti ma è una cosa un po' di tutti i giorni vediamo le altre notizie passiamo a Fossombrone si parla di una visita particolare al museo archeologico il Vernarecci di Fossombrone che è stata compiuta da un gruppo di persone dopo che queste hanno compiuto un itinerario a piedi di 11 chilometri ebbene associare il trekking ad una visita di carattere culturale si passa veramente una giornata completa e ricca di stimoli la visita al museo archeologico dopo 11 chilometri di trekking così intitola il giornale c'è un'integrazione tra ambiente e cultura Fossombrone è poi entrato nella rete della via Flaminia che ha con sé diversi altri comuni come il comune di Fano di Colli al Metauro di Cagli di Acqualagna di Fermignano e di Cantiano finalizzato questo progetto ad un proprio ad una collaborazione unitaria un progetto unitario integrato che prevede la valorizzazione e la promozione di tutti i valori storici che si trovano nella Flaminia ce ne sono veramente tanti tanti di carattere archeologico e soprattutto di carattere strutturale perché poi ci sono ponti ci sono ancora i basoli dell'antica Flaminia ci sono strutture di sostegno ci sono le gallerie insomma veramente la Flaminia ancora ha molto di che presentare di sé 900 la pittura prodotta in provincia ieri è stata presentata a Palazzo Bracci Pagani dalla Fondazione Carifano che ne è proprietaria una mostra particolare e le mostre che organizza generalmente la Fondazione sono eventi prestigiosi di particolare importanza questa volta ha centrato la sua attenzione sulla produzione degli artisti locali del fine 800 e del 1900 e sono artisti prestigiosi artisti quotati a livello nazionale le loro opere fanno parte di una collezione privata quella del giornalista Elio Giuliani di Pesaro pensate ha collezionato ben 600 opere di artisti molto noti del nostro territorio ne saranno esposti a Palazzo Bracci Pagani poco più di 100 ma è una selezione veramente importante ci sono nomi prestigiosi e la mostra verrà inaugurata sabato prossimo alle 17.30 e resterà visibile al pubblico fino al 10 marzo prossimo è una iniziativa particolarmente importante un'occasione importante perché la sezione dedicata dal Museo Civico Fanese al 900 al momento è chiusa non è fruibile poi la collezione che aveva la fondazione Cassa del Risparmio di Pesaro a Pesaro è stata trasferita ad Urbino e quindi non ci sono tante occasioni tra Fano e Pesaro di vedere queste opere quindi la collezione di Elio Giuliani esposta in mostra costituisce veramente un'occasione rara di poter vedere la produzione degli artisti locali nel secolo scorso passiamo a San Costanzo a San Costanzo viene presentato il programma del Comitato dei Sindaci che fanno parte dell'ambito sociale numero 6 inclusione e tutela dei fragili 3 milioni in arrivo al ATS 6 una cifra considerevole i sindaci si sono riuniti a San Costanzo e hanno provato il programma delle risorse per interventi finalizzati e finanziati dal Fondo Sociale Europeo sono previste due distinte misure di durata pari a 30 mesi dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2025 la prima riguarda i tirocini di inclusione sociale per le persone svantaggiate e poi abbiamo un altro assegno di 220 mila euro assegnati al servizio educativo domiciliare in favore di minori di famiglie vulnerabili in totale insomma la cifra è particolarmente consistente e verrà utilizzata però nel corso degli anni e poi vediamo a fondo pagina l'articolo di cui abbiamo parlato anche nella giornata di ieri di Pergola per il comune di Pergola che ha perso 70 mila euro a fondo perduto e il gruppo Pergola nel cuore accusa la giunta Guidarelli di una serie di mancanze Guidarelli ovviamente la sindaca del paese dei bronzi passiamo a Senigallia a Senigallia spuntano ordigni bellici dal fiume Misa ovviamente transennato il ponte di Bettolelle una decina di bombe e sono bombe che poi erano state precedute da un altro ritrovamento sempre delle stesse bombe sempre della stessa tipologia sono ordigni che risalgono al secondo conflitto mondiale trovate durante i lavori di polizia del Misa a scopo precauzionale comunque la viabilità è stata interdetta finché questi ordigni non verranno rimossi vediamo ora qualche notizia che riguarda Pesaro ecco qua l'apertura e si parla di alcuni edifici che al momento sono vuoti sono in disuso e corrono il rischio se non vengono poi utilizzati di degradarsi in maniera preoccupante il risico dei contenitori in pass per il Bramante e chance per l'ex carcere l'ex carcere quello dei minorenni l'ex carcere minorile tra le vie Bertozzini e Luca della Robbia di cui appunto si pubblica una fotografia ex carcere minorile ex Bramante ed ex sede della Banca d'Italia ce ne sono diverse in centro storico di ex strutture imponenti e complesse dismesse da tempo e con prospettive ancora in stallo per le volumetrie le destinazioni urbanistiche e il recupero che appunto richiede cifre particolarmente ingenti insomma è un recupero costoso e quindi rimangono lì insomma in stallo in una posizione di incertezza il rischio è che con il tempo il degrado e l'usura abbiano il sopravvento appunto questo articolo firmato da Letizia Francesconi ne sollecita appunto il recupero e c'è un altro edificio che appunto andrà in disuso che è l'edificio della provincia la provincia cambierà ma non distruggete questo palazzo lo ha osservato anche la sovraintendenza che ha detto va bene il recupero ma non distruggete non abbattete questo edificio vuol dire che è un edificio significativo dal punto di vista architettonico dal punto di vista dell'importanza dell'arte architettonica nel nostro territorio votata l'ultimo consiglio comunale la variante sostanziale al piano regolatore che modifica e ampia da servizi a residenziale e terzario la destinazione ed uso dell'attuale sede della provincia che significa che si possono fare appartamenti che si possono fare negozi e poi appunto si modifica non è più una palazzina di servizi come lo è attualmente e si modifica appunto la destinazione ed uso comunque la sovrintendenza ha decretato anche che la sala assemblea quella dove si riunisce il consiglio provinciale venga destinata a rimanere a uso pubblico quindi quella sala non si tocca vediamo le altre notizie zero risposte per psichiatria e le future sedi sono nel limbo si parla del reparto di psichiatria dell'ospedale di Pesaro a Moraglia Biancani il consigliere regionale del PD non molla la presa sulla regione sul trasferimento dei servizi occorre anche qui certezza ma anche in questo caso la regione ancora non ha pienamente deciso latita un po' con le risposte ieri mattina in consiglio regionale l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha ammesso che ancora non c'è nulla di deciso lasciando nello sconcerto sia Biancani sia Lavitri che si erano un po' interessate a questa vicenda è l'operazione che richiede tempo non solo due o tre che si erano un po' interessate che si erano un po'